Oggi è il nostro primo Open Day, è la prima volta che organizziamo una cosa del genere e ci interessa soprattutto far sapere ai giovani di che cosa ci occupiamo. In tanti anni ho sempre avuto difficoltà a spiegarlo anche a amici, parenti e conoscenti quindi abbiamo pensato, visto che siamo sempre a ricerca di giovani talenti, di aprire le porte e far vedere ai ragazzi interessati appunto di che cosa ci occupiamo. La sede di Regesta in via Panigada a Brescia ha aperto le proprie porte venerdì 5 luglio per il suo primo Open Day, utile agli interessati e ai partecipanti per capire di cosa si occupa l'azienda. Con Paola Beschi, People Manager, abbiamo quindi scoperto che Regesta è nata nel 2007, non un periodo particolarmente fallice a livello economico. Stiamo crescendo tantissimo e quindi stiamo cercando risorse sul territorio bresciano e oltre perché Regesta nasce nel 2007 ma ora si sta espandendo tantissimo grazie a una collaborazione molto stretta con clienti veramente importanti. Che cosa offrite come azienda? Noi offriamo implementazione di SAP. SAP è un software che aiuta le aziende a integrare i processi e a digitalizzarli, quindi a innovare e a fare industria 4.0. Ecco, hai detto che siete nati nel 2007, un periodo non troppo felice economicamente visto che era l'inizio della crisi economica che ha coinvolto l'Europa e non solo. Secondo te quali sono i punti di forza di quella che è la vostra azienda e come avete fatto a tenere duro appunto in questi anni? Abbiamo sempre investito sulle persone. Crediamo che la crescita personale e professionale delle persone siano strategiche per la nostra crescita e per la crescita dei clienti e loro stessi ci dicono che sono proprio per le nostre persone che fanno la differenza nell'implementazione dei progetti. Ospite della giornata è stato Ferdinando Cerbi, atleta paralimpico e fondatore di Hena Bolmi, che ha parlato di passione e resilienza, concetti che si sposano con quello che è il mondo Regesta. Obiettivo dell'azienda, ricercare le persone e credere nel loro sviluppo personale e professionale perché è strategico per offrire le migliori soluzioni ai clienti. Diciamo che cerchiamo prevalentemente appunto talenti, nel senso che cerchiamo ragazzi con predisposizione e capacità di natura tecnica, ma anche capacità di ascolto, un po' di anche capacità psicologica e il nostro lavoro consta di trasferimento tecnologico nelle aziende, ma con impatti anche di natura organizzativa. Quindi è necessario avere un po' questa doppia valenza per portare a casa dei risultati efficaci e di soddisfazione anche per i nostri clienti. Le figure che cerchiamo sono figure di programmatori, quindi o diplomati al liceo scientifico, o diplomati in istituti tecnici e indirizzo informatico, oppure laureati in ingegneria informatica o laureati in scienze dell'informazione. I ruoli sono quelli di programmatore per queste figure, mentre invece per i laureati in economia e in ingegneria gestionale principalmente il ruolo è quello di consulente funzionale SAP.